Alla male del film, visto che ci sono state tante scene bellissime, per me è quando Iggy ha portato a casa e è andata a prendere Ruth. Per me è stata una scena bellissima, una scena toccante e devo dire che poi tutto il film è stato veramente splendido, di scene madri, una più bella dell'altra. Quando la signora ha deciso di distruggere la casa perché voleva più luce, più vita, più... insomma voleva... si è ribellata. Allora, la scena madre del film è stata alla fine quando la signora anziana ha fatto il paragone sull'amicizia, che è una cosa molto importante, però mi ha fatto pensare tutto il film a quanto le donne potessero contare molto a pochi anni di distanza da adesso, cioè alla fine a 80 anni, 90 anni fa, questo mi ha fatto molto pensare. Quando compare la prima volta il marito Bennet e incontra per la prima volta Iggy e lei tira fuori il nome To'Wanda, è meraviglioso. Beh, la scena madre di questo film secondo me è quella in cui Katie Bates ha la sua riscossa e ha il grido di To'Wanda si scaglia contro la macchina delle ragazzine. Il film è tutto lì, poi vabbè è un film pieno di scene madri ma quello io che l'ho visto quando avevo 13 anni me la son portata dietro per tutta la vita. To'Wanda, To'Wanda.